Mab&Co, formazione e strategie per l'evoluzione del business, MabManagement.it Ed ecco il ritorno di Eusebio Di Francesco, allenatore che a Cagliari non ha fatto bene ma il grado fosse stato chiamato a gran voce per le sue precedenti grandi prestazioni a Frosinone ha trovato una squadra promossa in Serie A che gli sta consegnata con tutto l'entusiasmo che ne deriva da una promozione e da un campionato condotto in prima linea con tanti punti di vantaggio è praticamente quasi mai in discussione rispetto all'obiettivo che ha colto. È un Frosinone che è cresciuto, ha comprato giocatori importanti, la maggior parte in prestito per risanare il suo bilancio che peraltro ha avuto alla fine un bilancio complessivo di 9 milioni in entrata con la possibilità di cedere le cessioni importanti, Boloca per 10 milioni al Sassuolo, Ricci e Insigne poi per cifre decisamente inferiori. Ha acquistato Prestiti, Ocoli che è un difensore, Chedira che è giocatore che conosciamo, Turati il portiere preso in prestito dal Sassuolo e Sule anche lui in prestito dalla Juventus. La costruzione della squadra che permette a Di Francesco di giocare con due formule diverse in trasferta preferisce giocare con il 4-2-3-1 anche se l'espulsione di Massitelli nell'ultima partita e il capitano della squadra in qualche modo imporrà qualche modifica e di dover insomma vedere qualche giocatore nuovo in quel ruolo fondamentale per la squadra. Nella partita a Bologna persa per 2-1 ha giocato con Turati in porta, Oiono, Romagnoli, Ocoli e Marchizza nella linea di difesa, Barrencea con Massitelli nella linea centrale, 3-3-quartisti, Sule, Reiner e Garitano e Chedira di punta il gol è arrivato ad opera di Sule. Non è una squadra che ha fatto particolari risultati in trasferta anzi in trasferta non ha mai vinto, ha ottenuto due pareggi peraltro con due concorrenti del Cagliari l'Udinese e la Sarnitana e quindi testimoni infatti che in trasferta lontano dal Benito Stirpe è una squadra assolutamente abbordabile che il Cagliari deve cercare assolutamente di battere e di vincere per cercare quei punti e quelle vittorie che invece il Frosino ne ha ottenuto tanto da permettergli in questo momento di stare molto più in alto rispetto alla squadra cagliaritana. È un match interessantissimo da questo punto di vista anche perché sappiamo che Di Francesco tendenzialmente va a una resa inferiore col passare dei turni e se andiamo a vedere quello che sta capitando anche a Frosinone dove effettivamente dopo una partenza brillante dove si è vinto con squadre di rango ad esempio è stata battuta in casa, è stata battuta l'Atalanta in uno dei primi match qualcosa è rallentato e qualcosa si è perso quindi stiamo a vedere cosa riuscirà a combinare il Cagliari questa è una di quelle gare dove devi mettere nel tabellino l'ipotesi assoluta di dover vincere Mab & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business MabManagement.it